Grande attesa per la 73esima edizione della mostra internazionale dell'artigianato di Firenze, un appuntamento a cui i fiorentini non sanno rinunciare da tanti anni. La mostra infatti è giunta alla sua 73esima edizione. La mostra dell'artigianato si svolge come di consueto, come di ogni anno, dal 25 aprile al 3 maggio alla Fortezza d'Abbasso. È una mostra full time che occupa l'intera giornata, si apre la mattina alle 10 e chiude la sera alle 23. L'ultimo giorno, il giorno di chiusura, che è domenica 3 maggio, chiude alle ore 20. Tante le iniziative, anche le attese per la mostra, paesi ospite d'onore quest'anno sarà la Francia, che porterà l'eccellenza dell'artigianato artistico francese in Fortezza d'Abbasso, va a Firenze. La regione ospite d'onore invece sarà il Piemonte e tante novità e curiosità sia a livello di iniziative collaterali sia a livello di espositori. Vi aspettiamo quindi con oltre 850 espositori in Fortezza d'Abbasso fino a domenica 3 maggio.